Un saluto da Alex Guarini di Trebimeteo.com Domenica con Italia spaccata completamente in due, infatti a nord avremo l'ennesima perturbazione atlantica con molte nubi e pioggia a carattere sparso, mentre al centro-sud prevarà il bel tempo soprattutto sulle estreme regioni meridionali. Ma partiamo dalle temperature minime che non subiranno particolari variazioni da nord a sud dello stivale, al più in lieve rialzo a nord per via della maggior copertura nuvolosa. Per quanto riguarda le massime, anche queste non subiranno particolari variazioni, saranno soprattutto nettamente superiori alle medie del periodo al centro-sud dove, guardate, si raggiungeranno punte di 21-22 gradi centigradi. Ma entriamo quindi nel dettaglio previsionale per il nord che vedrà appunto cieli generalmente nuvolosi o molto nuvolosi per tutto il corso della giornata, soprattutto sui settori di ponente dove non mancheranno pioggia a carattere sparso e nevicate un po' su tutto l'arco alpino alle quote che vedete indicate nella grafica. Il tempo invece si mantiene ancora asciutto sulla Romagna. Al centro nuvolosità in aumento sull'alta Toscana ma senza fenomeni degni di nota salvo più vigini in prossimità dei rilievi, prevale invece il bel tempo sul resto del centro. E infine al sud splendida giornata di sole un po' su tutte le regioni, soprattutto lungo il versante adriatico, ma il sole comunque la farà da padrone un po' ovunque, bel tempo prevalente anche sulla Sardegna per tutto il corso della giornata. Vi aspetto per aggiornamenti in tempo reale su trebimeteo.com